La storia di Marta, fuggita dall'Ucraina con le sue figlie di 11 anni e 11 mesi, la zia e il figlio, è tornata in Abruzzo a Bucchianico dove era stata fino a 20 anni. Storia raccontata da Pietro Lambertini sullo quotidiano Il Centro. Marta ci dice che se non avessi avuto le bambine sarebbe rimasta nel suo paese dove è tuttora suo marito pronto a combattere. La giovane è tornata nella casa in Abruzzo dove abitava con i suoi genitori, la madre ucraina e il patrigno italiano. Purtroppo li ha persi entrambi questa estate al dolore, altro dolore come la guerra e dalla sua casa di Bucchianico racconta. E quindi adesso siamo venuti qui perché non posso dare, avendo dei figli molto piccoli di 11 mesi, non posso dare molto aiuto alla mia terra. Però almeno adesso nella mia casa posso accogliere altra gente che viene dall'est dell'Ucraina. Mi dicevi che avevi un ristorante invece. Un ristorantino piccolo, avevamo tre amiche, avevamo un ristorantino in Ucraina nella nostra città. Sì, mia zia è una dottoressa di quattro lauree in medicina, quindi siamo delle persone che lavoravano. Un viaggio durato sei giorni. Siamo stati due giorni alla frontiera, in fila per attraversare, poi altro giorno e mezzo siamo stati dalle persone ucraine che vivono in Polonia, che ci accoglievano, che non conoscevamo neanche, ma ci hanno accolto per farci dormire, per farci lavare, cambiare i panni, darci da mangiare. E poi ci hanno aiutato a comprare dei biglietti per pescare, siamo venuti per altri due giorni, siamo stati in viaggio. Però tu mi hai detto, spero che finisca presto perché io voglio tornare in Ucraina. Certo, prima di tutto perché quella è la mia casa, quella è la nostra terra. Non mi vedo in nessun altro paese, però quando tu scappi dalla guerra e lasciare il mio paese, no. È rimasto mio marito. Adesso tutti gli uomini devono iscriversi all'esercito, non c'è differenza se hanno pratica nell'esercito o non hanno, però sono iscritti tutti. Adesso anche nelle nostre città ritornano delle tombe degli uomini che hanno combattuto per la loro terra, quindi adesso non è un dolore soltanto dell'ovest dell'Ucraina. Di tutta l'Ucraina. Dell'est e di tutta l'Ucraina. L'associazione Noi del GBV così è mobilitata per questa famiglia assieme al sindaco di Bucchianico che Marta ringrazia e vuole rivolgere un appello. Un grazie di cuore dico a tutti quelli che ci hanno aiutato, che almeno hanno pensato, però io non chiedo aiuto per me perché la mia situazione non è così tragica come di tante altre persone che vengono dall'est dell'Ucraina, che hanno perso delle case, hanno perso dei parenti, dei figli e magari vengono qui veramente distrutti, che non hanno assolutamente niente. Però adesso cominciano ad arrivare anche in Italia e a loro servirà tanto aiuto, questo sicuramente servirà l'aiuto anche psicologico, morale e anche perché non hanno niente. Io per esempio con me ho portato una borsellina piccola perché abbiamo capito che tutto quello che ti serve ti può entrare nel palmo di una mano e si dice adesso da noi così, perché tu lasci tutto e te ne vai. Grazie. Grazie. Grazie.